Sottoscritta in prefettura la convenzione attuativa del patto per la sicurezza urbana di Torino, firmato lo scorso 29 agosto fra prefettura, regione e città capoluogo. La firma, posta dal prefetto Giovanni Caffagna e dall'assessore alla sicurezza Fabrizio Ricca, darà il via al finanziamento regionale di un milione di euro per l'acquisto di autovetture e motoveicoli destinati alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Municipale per i servizi di controllo del territorio e di prevenzione della criminalità. Un'altra parte di risorse verrà poi utilizzata per implementare il sistema di videosorveglianza comunale mediante l'introduzione di un software intelligente di lettura targhe. Raggiungeremo un altro tra poco, un altro milione, 500 mila destinato di nuovo all'acquisto di mezzi, e 500 mila per gli straordinari, per le forze dell'ordine, così da poter garantire anche la disponibilità economica per fare lavorare le donne e gli uomini delle forze dell'ordine. Dall'inizio del 2024 sono stati effettuati 24 servizi interforze di controllo del territorio ad alto impatto impiegando 766 unità delle forze dell'ordine e 61 della Polizia Municipale. Nel corso dei servizi sono state controllate 2776 persone, di cui 49 denunciate e 14 arrestate, 108 pubblici esercizi e 354 veicoli. Non è ancora sistemata la zona di Torino Nord, però diciamo che inizia a vedersi un sostanziale miglioramento. Questo ci dà davvero fiducia per il futuro. Il lavoro con la prefettura e con le forze dell'ordine ci sta dando soddisfazione. È ovvio che dobbiamo ampliare perché i problemi sono importanti su Aurora, sulla parte ancora più a nord di Piazza Foroni, ma so che ci stiamo per arrivare, quindi sono assolutamente fiducioso.